Salve gente, mi chiamo Yuba e sono davvero una propina spericolata. I miei due amici umani sono due tontoroni, antichi come Noè. Mi dicono sempre, questa gabbia non è un albergo, ma io sono giovane. Mi vogliono bene e gliene voglio anch'io, ma non glielo ricco, per rispetto. Mi piace tanto morderli le dita, loro credono lo faccia per gioco, ma io lo faccio apposta. Sono proprio terribile. E infine, questo è il mio morto. E qui comando io, e questa è casa mia, ogni vi voglio sapere, ogni vi voglio sapere. E qui comando io, e questa è casa mia, ogni vi voglio sapere chi viene e chi va. E qui comando io, e qua. E qui comando io, e qui comando io. Grazie a tutti.